www.santarosalia.com www.santarosalia.com Ma quale lavora? Ma che vi siete messi in testa voi due? E ma adesso è morta! Pace quella scena che non ne avrà mai! Pace! Ma ci pare che la strada è sua! Ma lei? Da dove viene? A me che pensi sempre a mangiare? Forse l'assassino dobbiamo cercarlo all'interno del palazzo. La morte era una neggera. E lì si odiavano tutti. E' che tu sei un palermetano della peggiore razza. Io? Io palermetano? Vita nel mio sogno un ente senza dir Resta qua vicino a me Se non fosse insopportabile Direi che alla polizia hanno fatto una gran fesseria quando non ti hanno assunto. Nessuno deve lasciare il palazzo. Le donne di Palermo. Che forza. Tranne mia sorella. La sfida è quella di rimanere a Palermo per realizzare qui i nostri sogni. Palermo è la città dei sogni. E noi ci stiamo provando con la nostra agenzia. A presto! A presto! A presto! A presto!